Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi siamo qui per parlare del Cuore Napoli Basket Era un po' di tempo che non ne parlavo, ho saltato tre post partita Un po' perché non sono riuscito a trovare lo spazio per farli Sono stato impegnato con altri video, un po' anche perché ha sempre perso in queste partite Quindi molte volte sarebbe stato inutile fare il video visto che dovevamo ripetere sempre le stesse cose Però ora, oggi ho deciso di fare questo video sul Cuore Napoli Basket L'ultima partita è stata quella contro Reggio Calabria Persa di 10 punti al Palabarbuto per 64 a 74 Quindi come detto parziale di 10 punti Il primo quarto l'abbiamo chiuso in vantaggio Mentre poi abbiamo fatto davvero un brutto secondo quarto Subendo molti punti e segnando davvero molto poco Mentre poi abbiamo fatto un bel terzo quarto Molto meglio rispetto al secondo Però Reggio Calabria è sempre riuscito a tenere quel vantaggio di 6-7 punti E poi alla fine nel quarto quarto è riuscita a prendersi la vittoria di 10 punti E diciamo però che ora bisogna prendere dei provvedimenti Bisogna prendere dei provvedimenti perché non si può andare più avanti così Bisogna fare qualcosa Perché secondo me la scelta di mandare via Ponticiello È stata una scelta sbagliata da parte del presidente Ciro Ruggiero E se proprio lo voleva mandare doveva avere la certezza di prendere un nuovo allenatore Perché sono quattro partite che sulla panchina ci sono sempre i due vice E non si può andare avanti così Ci vuole un allenatore che abbia esperienza e che tenga compatto il gruppo e la squadra Secondo me Ruggiero è rimasto un po' fregato da questa situazione Perché sembrava molto probabile il ritorno di Piero Bucchi sulla panchina azzurra Piero Bucchi che è stato l'allenatore del Napoli Basket ai tempi dell'A1 e dell'Eurolega Però poi Piero Bucchi è andato in A1 al Brindisi E secondo me è stata un po' una fregatura questa cosa Perché secondo me quando Ruggiero ha deciso di esonerare Ponticiello Era sicuro che Piero Bucchi sarebbe arrivato Però poi forse giustamente Piero Bucchi ha avuto la sua offerta dall'A1 da Brindisi E ha accettato quella lì Nelle ultime partite diciamo quelle in casa ce la siamo giocata con Agrigento e Correggio Calabria Ce la siamo giocati quasi fino alla fine Però poi non siamo riusciti a portare la vittoria a casa Mentre poi abbiamo preso dei veri e propri scivoloni fuori casa con Scafati e Biella Con Biella abbiamo addirittura perso con un parziale oltre i 30 punti E quindi al momento la squadra non riesce ad essere competitiva con le prime della classe di questo girone Però secondo me è arrivato il momento come detto di prendere un allenatore Di prendere un allenatore esperto perché non si può buttare tutto così Sì in questo modo stiamo retrocedendo senza provare a fare nulla Non si può andare avanti così perché sarebbe davvero un peccato retrocedere di nuovo Sarebbe come buttare tutto quello di positivo che è stato fatto nella scorsa stagione Il presidente Ciro Ruggero davvero stava portando avanti un bellissimo progetto Destinato quindi ad arrivare nuovamente al massimo A portare nuovamente il grande basket a Napoli E sarebbe davvero un peccato buttare via tutto così Quindi ora bisogna prendere dei provvedimenti perché si può ancora rimediare Non è nulla finito e questa salvezza è ancora raggiungibile I punti dal penultimo posto sono 6 Non sono pochi ma non sono neanche tanti Quindi ora è arrivato il momento di cominciare a fare punti Perché retrocedere sarebbe come fallire nuovamente Perché l'abbiamo visto l'anno scorso Non è per niente facile conquistare la promozione nel campionato di Serie B Quindi bisogna fare davvero di tutto Per conquistare questa salvezza O almeno prenderci un posto ai play out per potercela giocare Ma almeno dobbiamo fare di tutto per non retrocedere direttamente Nelle ultime partite gli unici che si salvano sono sempre un po' Carter e Nikolic Nell'ultima partita è rientrato finalmente Caruso Un giovane dalle ottime prospettive che ha fatto davvero un bel po' di punti 19 se non mi sbaglio Quindi ragazzi detto questo io vi saluto Speriamo che ci saranno dei miglioramenti che ci porteranno alla salvezza Noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli